generalmente sapete che preferisco parlare di software, applicazioni per smartphone quindi trucchi da utilizzare sullo smartphone, sul cellulare però ogni tanto vi propongo anche qualche dispositivo, quindi qualche unboxing, qualche recensione in questo video voglio parlarvi di un dispositivo che trovo molto utile ed è un elemento, quindi diciamo è un dispositivo che ci permette di aggiungere 4 porte USB al PC la cosa utile, a differenza di molti altri di questo tipo è che non è semplicemente un dispositivo che va appoggiato da qualche parte ma può essere agganciato alla scrivania vediamo, infatti è possibile agganciarlo sul bordo della scrivania stringerlo sul bordo e quindi molto comodo perché magari non occupa tanto spazio non ce lo troviamo ad esempio sopra gli oggetti non disturba più di tanto è sul bordo della scrivania lo dobbiamo collegare al PC, alla porta USB del PC e avremo 4 porte disponibili e facilmente accessibili tutto il tempo ora vedremo, vi sto facendo vedere prima un po' di video da Amazon ad esempio in questo caso viene fissato sotto il monitor possiamo veramente fissarlo dove ci è più comodo quindi effettivamente anche sotto il monitor se dovesse essere più comodo il dispositivo attualmente costa 26,99€ ma c'è la possibilità di avere un coupon sconto del 10% ed è disponibile in due versioni nero che è quello che ho preso io quindi quello che vedremo tra poco nell'unboxing e argentato quindi praticamente identici quello argentato costa leggermente meno c'è scritto taglia 4 porte più micro USB interface invece nero ma sono praticamente identici cambia il colore quindi diciamo che argento è nero la micro USB interface l'interfaccia micro USB ce l'ha anche quello nero quindi sono assolutamente identici come anticipato eccoci all'unboxing devo dire che devo migliorare ancora con le riprese la webcam non è il massimo forse dovrei farle con lo smartphone ma mi è più comodo al momento farle con la webcam perché posso utilizzare così il microfono del computer è tutto più comodo vediamo intanto è sigillato quindi dovremmo aprirlo ho messo in pausa per toglierlo altrimenti era troppo scomodo riuscire con una sola mano ad aprire il tutto allora intanto vediamo se riesco a farvi vedere il dispositivo intanto è davvero piccolissimo ecco le quattro porte USB nella parte inferiore ci sono due porte una USB classica che permette di collegare il dispositivo al PC quindi per effettivamente inviare il segnale delle quattro porte e un'altra porta micro USB che invece permette di dare ulteriore alimentazione al dispositivo quindi diciamo che se io volessi usare tutte e quattro le porte ad esempio per avere quattro hard disk esterni collegati dovrò utilizzare la micro USB per alimentare quindi con la porta USB lo collego al PC per mandare i dati al PC e ovviamente anche in parte alimentare per un'alimentazione extra collegherò la micro USB ovviamente non al PC ma a un alimentatore e quindi alimenterò, darò maggiore corrente al dispositivo in questo modo posso alimentare tutte e quattro le porte e utilizzare dispositivi che richiedono maggiore potenza all'interno della scatola oltre ovviamente al dispositivo stesso troviamo un cavo USB quindi USB classico da credo 3.0 o 3.1 vediamo dopo se c'è scritto comunque entrambi i lati USB di tipo A che è quello che ci permette di collegarlo al PC quindi andrà collegato uno sulla porta rossa inferiore e l'altro sulla porta USB del PC e abbiamo poi un manuale completamente in cinese ci dice USB 3.0 completamente in cinese ma diciamo che non credo che servano tante informazioni e poi abbiamo un altro manuale in diverse lingue istruzioni per l'uso ci dice prima pagina non dà molte informazioni dice solo che per risolvere la mancanza di interfacce USB nella maggior parte dei dispositivi comunque quindi abbiamo solamente il cavo USB quindi se abbiamo necessità di alimentarlo maggiormente dovremmo comprare un cavo micro USB con un alimentatore un adattatore da parete per poterlo alimentare maggiormente e quindi avere maggiore potenza per i nostri dispositivi eccolo agganciato alla scrivania occupa veramente pochissimo spazio non dà assolutamente fastidio ed è comodissimo nel caso in cui ovviamente volessimo collegare delle porte si può mettere ad esempio sul lato sul quale abbiamo il PC è molto utile ad esempio per utilizzare il lettore di impronte perché è comodo lo possiamo tenere lateralmente sulla scrivania oppure come visto su Amazon agganciarlo sotto il monitor quindi possiamo avere delle porte USB facilmente raggiungibili e utili ad esempio proprio per il lettore di impronte oppure per collegare rapidamente delle chiavette USB o degli hard disk esterni quindi ritorniamo alla pagina su Amazon come anticipato è presente solo un cavo USB A da entrambi i lati 3.0 da un metro e mezzo il cavo di alimentazione micro USB vediamo la foto del retro non c'è una foto del retro è qui il cavo micro USB non è presente ok eccolo qui non è presente è presente l'interfaccia ma quindi se abbiamo bisogno di maggiore alimentazione dovremmo necessariamente acquistare un cavo oppure utilizzarne uno se già ne abbiamo uno se non ne avete uno vi metterò sul mio sito web un link per cavo e adattatore da parete USB utilissimi sono quelli che utilizzo io di solito gli adattatori ne ho preso più di uno funzionano benissimo e anche per i cavi USB vi metterò dei link micro USB ovviamente vi metterò dei link per alcuni cavi che funzionano testati ovviamente da me con questo prodotto quindi che funzionano sicuramente quindi il dispositivo funziona con PC con Macbook Macbook Air funziona praticamente con qualsiasi dispositivo che abbia una porta USB e la cosa comoda è proprio l'alimentazione micro USB esterna perché vi permette di alimentare le porte anche nel caso in cui il vostro portatile non riesca ad alimentarle perché ovviamente un'unica porta USB non riesce spesso ad alimentarne quattro quindi vi permette ovviamente di alimentare quattro porte in maniera migliore rispetto quindi a qualsiasi altro adattatore o a qualsiasi altro strumento che vi permetta di aggiungere delle porte USB quindi assolutamente ve lo consiglio utilissimo sia per la posizione in cui si può posizionare quindi fissarlo alla scrivania o monitor o qualsiasi altro elemento sia perché può essere alimentato quindi autoalimentato e non ha bisogno di prendere solo l'alimentazione dal nostro dispositivo quindi ovviamente troverete il link anche ad Amazon il link di questo dispositivo ad Amazon sul mio sito web quindi come sempre da YouTube link in descrizione link articolo e lì troverete tutti i link quindi se il video ti è piaciuto metti like in questo modo mi aiutti a capire quali sono gli argomenti che vi interessano maggiormente inoltre se ancora non lo hai fatto iscriviti al canale attiva la campanella così non perderai tutti i miei prossimi video ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine come sempre per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento puoi scrivermi nei commenti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao